Buon pomeriggio a tutti, io sono felicissimo di portare un saluto dell'Accademia a questa, posso dirlo, l'ennesima edizione fortunata del ciclo Storie e storie, è ormai un appuntamento fisso della collaborazione tra l'Accademia Roveretana degli Agiati e il Museo della Guerra. L'ho già detto in passato e mi piace ripeterlo ancora una volta, la collaborazione tra le nostre due istituzioni è una delle collaborazioni più ottimali e anche più funzionali che io ho registrato negli ultimi anni. Noi abbiamo uno scambio costante di informazioni, di idee, di progetti, e questo mi fa appunto pensare che la situazione non potrà che, diciamo, migliorare nel corso del tempo. Io porto, lo dicevo prima, il saluto del Consiglio e del corpo accademico. Vedo che in questa prima tornata ci saranno quattro interventi. Io auguro a tutti i relatori coinvolti e a tutte le persone collegate un saluto e un buon ascolto e una buona visione. Grazie. Buonasera a tutti, rinnovo anche da parte mia e del Museo della Guerra il benvenuto ai nostri ospiti di oggi e al pubblico che è presente e registro anch'io la soddisfazione di essere riusciti ad organizzare, come da tradizione, questo ciclo di presentazioni di volumi in collaborazione con l'Accademia Roveretana degli Agiati. Come alcuni di voi avranno probabilmente visto dal volantino di presentazione del ciclo, abbiamo individuato due ambiti, diciamo, prevalenti di indagine, uno relativo al risorgimento che sembra o appare un tema, diciamo, molto noto e digerito e più, ma che in realtà continua a riservare delle sorprese se indagato o a fondo. Abbiamo deciso poi, scientemente, di spostare il focus di indagine sulla Libia e in parte anche sull'esperienza coloniale italiana che, pur molto nota negli ambienti storiografici, in realtà non lo è sempre in termini di alta divulgazione pubblica. Presenteremo quindi, diciamo, quattro libri nei prossimi mercoledì, nelle prossime quattro settimane, avviando un'interlocuzione che vede coinvolti gli autori o curatori dei volumi e di volta in volta dei discussant che possano, diciamo, stimolare gli autori nelle loro riflessioni, dato che poi l'obiettivo ultimo è sempre quello di leggere i libri e questo è più che altro un assaggio informato alle questioni che presentiamo. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il volume primo dell'opera Pensare gli italiani 1849-1890, a cura di Mario Allegri, che è qui con noi oggi e che interverrà in quanto autore anche di uno dei saggi, oltre che curatore del duplice volume. Aprirà i lavori presentando un po' la genesi di quest'opera, che è un'opera complessa e con molti autori e contributi raccolti del professor Roberto Pertici dell'Università di Bergamo e interverrà poi Francesca Brunet del Centro di Competenze di Storia Regionale della Libra Università di Borzano con un focus, diciamo, specifico di natura più regionale che rispecchia il contributo che ha voluto apportare a quest'opera collettiva. Io passerei la parola alla professora Pertici in maniera tale che possa così delineare come nasce quest'opera complessa, quali furono gli stimoli che ne hanno un po' dato il via e come si è arrivati poi a collazionare in questo corposo di volume di oltre 600 pagine questo insieme di contributi che costituisce un affresco non banale di cosa fu la fase risorgimentale fra 1849 e 1859. A lei la parola con ancora un ringraziamento per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti e innanzitutto sono io che ringrazio della vostra ospitalità i cari amici Mario Allegri e Fabrizio Lasera, la dottoressa Brunette che ho conosciuto al convegno e il presidente dell'Accademia, insomma tutti voi ora non fatemi enumerarveli tutti. Io sono appunto un po' in una situazione un po' piccolo conflitto di interessi si potrebbe dire, nel senso che da una parte faccio parte del comitato scientifico che ha elaborato il progetto che ha dato vita poi al convegno svoltosi nel novembre del 2019, prima della guerra sembrerebbe di dire, cioè prima della pandemia, quindi sembra un secolo fa, proprio a ridosso di quello che sarebbe poi successo. Questo comitato scientifico vedeva fra i suoi componenti appunto l'amico Mario Allegri, Francesco Bruni che salutiamo tutti e poi Fabrizio oltre al sottoscritto. Noi abbiamo, perché conflitto di interessi? Perché da una parte il volume è frutto di una nostra elaborazione comune e poi dovrebbe essere giudicato magari da qualcun altro, ecco, nel suo risultato, ma cercherò di fare l'una parte e l'altra, cercherò di farlo io, insomma, sia pure in maniera molto approssimativa. Ora, già il titolo io direi è significativo, perché è Pensare gli italiani. presenta una periodizzazione ampia, cioè un termine di partenza, il 1849, che è la fine della prima guerra di indipendenza, come una volta si chiamava, è la fine della Repubblica Romana, è la fine della rivoluzione nazionale del 1848-49. e prospetta come termine ad quem il 1890, siamo in età crispina, il colonialismo italiano di cui parlerete ha già mosso i primi passi, due anni dopo nascerà il Partito Socialista Italiano, che è il primo partito moderno che nasce nel nostro paese, insomma, sono passati 40 anni, ma 40 anni in cui è nato uno Stato nuovo in Europa, il Regno d'Italia. Vedremo che non è stato un fatto di poco conto, a livello anche continentale, questo fatto. Ora, Pensare gli italiani, è chiaro che il problema che poneva già questo titolo è il problema che la storiografia degli ultimi 50 anni ha chiamato della nazionalizzazione del paese. C'è un famoso libro che è la nazionalizzazione delle masse, che tutti conoscono, di mosse. Io preferirei dire di formazione di una opinione nazionale, di un'opinione pubblica nazionale, perché come vedremo questo primo stadio riguarda questo aspetto, non le masse. La nazionalizzazione delle masse sarà tentata, portata avanti in un certo modo dal Regno d'Italia, una volta che questo Stato si è formato con gli strumenti che tutti gli Stati europei tardo-ottocenteschi avevano a disposizione per nazionalizzare le masse. Non è un problema che riguarda solo l'Italia, riguarda più o meno tutti gli Stati europei. In questa fase si parla ancora di pensare gli italiani e soprattutto di formare, si potrebbe dire un'opinione pubblica nazionale che va al di là dei vari Stati regionali in cui il paese Italia è ancora diviso all'indomani del fallimento della rivoluzione nazionale. L'espressione opinione nazionale è un'espressione di Massimo D'Azzeglio, lo sanno tutti. Ecco, che non a caso, appunto, in questo clamoroso pamphlet, Massimo D'Azzeglio è il primo grande giornalista italiano. I suoi pamphlet usciti negli anni 40 sono tutti strepitosi da questo punto di vista. Il formare l'opinione nazionale era uno di questi. Ora, quindi, formare un'opinione pubblica nazionale. In questo decennio, il decennio che va dal 1849 al 1859, è il primo volume a cui ne seguiranno altri. Cosa succede su questo punto? Possiamo dire in maniera molto, molto semplificata, che avviene in maniera, ovviamente, come tutti i processi storici, in maniera non totale, con resistenze, con ritardi, avviene però un primo momento importante che possiamo chiamare di nazionalizzazione delle élite. Questo avviene, di nazionalizzazione delle élite regionali e di carattere politico-sociale e culturale. Ecco, questo è il focus, diciamo così, il problema di questo volume. Come avvenne questa? Perché avvenne questo processo di nazionalizzazione delle élite, come l'ho chiamato io? E' chiaro che noi, quando abbiamo cominciato a pensare a questo tipo di impostazione, non venivamo, non condividevamo del tutto l'idea che è stata molto diffusa nella storiografia italiana degli ultimi trent'anni, che le nazioni siano comunità immaginate. Andatelo a dire agli ucraini di oggi che la loro nazione è una comunità immaginata. E sentiamo cosa rispondono. Quindi noi non partivamo da questa visione che le nazioni sono comunità immaginate. Noi pensavamo che la nazione italiana, la cultura italiana, la civiltà italiana, aveva una larga, una lunga storia alle spalle. D'altro canto faceva parte del nostro comitato scientifico Francesco Bruni, che a questa storia dell'idea d'Italia nei secoli ha dedicato un libro, direi, fondamentale, e che era un po' il prequel, come si dice oggi, il linguaggio cinematografico del nostro volume. Quindi che ci fosse un qualche collante di tipo linguistico, di tipo culturale, di tradizioni, come dire, in quell'ambito geografico che si chiama Italia, è più o meno da far datare al XIV secolo, da Dante in poi, che diventa prima un problema linguistico, poi un problema politico, perché già in Machiavelli questo esiste, il problema politico dell'Italia. Lui sa bene che cos'è l'Italia, Niccolò Machiavelli, e voglio dire, e anche durante l'illuminismo, insomma, è inutile ricordare il famoso articolo di San Rinaldo Carli sulla patria degli italiani, comparso sul caffè nel 1761, se non mi ricordo male, dove già anche questi aspetti si vedevano. Però è certo che questa, diciamo così, che io chiamo civiltà italiana, era ancora un fatto pre-politico. A un certo punto, per motivi complicati, che ora qui non possiamo stare a riassumere, questo concetto si politicizza, e soprattutto in epoca napoleonica, una prima, in epoca rivoluzionaria napoleonica, cioè si comincia a dire, siccome siamo un qualcosa da molto tempo, possiamo fare anche noi come hanno fatto gli altri, cioè formare in qualche modo un'entità politica, uno Stato sul modello francese, una repubblica unica, unita, indivisibile, eccetera, eccetera. Ed è nel periodo francese che avviene una prima nazionalizzazione dell'elite, all'interno, diciamo, degli stati napoleonici, dove non c'è più distinzione tra toscani, modenesi, veneti, perché certo ci sono, continuano ad esserci, però in qualche modo è all'interno del crogiodo napoleonico, che avviene in quella che è la burocrazia napoleonica, sono presenti personaggi provenienti dalle varie zone d'Italia, in quelli che sono i collegi del Regno Italico sono presenti, è inutile che ora qui davanti a Mario Allegri ripeta la famosa affermazione dell'incipit delle confessioni in italiano di Polito Nievo, quando dice io sono nato il 18 ottobre 1776 italiano e veneziano, morirò quando la divina provvidenza è italiano. Questo processo è il processo di nazionalizzazione di un giovane giurista, che aveva fatto studi di legge come Carlino Altornuti. L'altro punto quindi da cui abbiamo preso le mosse era il fatto che l'Italia non era un'invenzione dei primi decenni dell'Ottocento, ma che in qualche modo qualcosa esisteva già. L'altro motivo che abbiamo cercato di individuare è che questa nazionalizzazione, e anche qui ci distinguiamo da qualche storiografia che era prebalza negli ultimi decenni, non avviene soltanto sulla base di stilemi culturali, cioè perché tutti leggono gli stessi libri, perché tutti hanno davanti gli stessi miti fondatori, perché tutti hanno le stesse retoriche, eccetera, ma avviene sulla base di esperienze politiche. Questo è il problema che questo volume ritorna a mettere come elemento centrale. Perché? Perché alla vigilia negli anni 40 c'è stato un altro grande momento di nazionalizzazione dell'opinione pubblica italiana, ed è stato quegli anni che sui nostri libri di storia chiamiamo gli anni dei moderati, cioè gli anni che vanno circa dal 1843-44 al 49, gli anni di Gioberti, di Balbo, di Pio IX, di Carlo Alberto, per intenderci. Cioè in questi anni, avendo superato l'impostazione mazziniana, gloriosa per carità, di unitarismo spinto e di rivoluzione e di repubblica, i moderati tracciarono un progetto che diceva agli italiani voi potete restare tranquillamente fedeli alle vostre case regnanti, potete restare tranquillamente fedeli al Papa, però la questione italiana la possiamo risolvere. Possiamo fare dell'Italia qualcosa di diverso. Attraverso una federazione, una confederazione, però abbattendo i confini, i dazzi, facendo un sistema ferroviario nazionale, unificando pesi e misure, istituendo un sistema scolastico unitario e magari anche delle forze armate comune a tutti i vari stati. In questo modo noi possiamo risolvere, senza spargimento di sangue, senza traumi, il problema nazionale. Su questo problema furono d'accordo tutti, se non le due ali estreme. l'estrema sinistra, si potrebbe dire, dei mazziniani, che però, insomma, verso Pio IX mostrarono a più riprese un atteggiamento. E l'estrema destra, quelli che Gioberti chiamò i gesuiti, il gesuitismo. Ma isolate queste due ali, come dire, la gran massa dell'opinione pubblica nazionale si trovò assolutamente d'accordo su questo piano. E furono veramente gli anni più unitari, io direi, guardate, della storia d'Italia, voglio essere, mi voglio buttare sul lungo periodo, perché la storia d'Italia è percorsa da una notevole divisività, come sappiamo tutti per motivi complicati, ma questi furono anni fondamentali. Questo esperimento andò male, andò male con la rivoluzione del 48-49, perché la rivoluzione fallì. Fallì la guerra a Recia, la guerra di Carlo Alberto, fallirono gli sforzi dei rivoluzionari a Venezia, come a Roma, e si tornò alla seconda restaurazione, come si è detto, cioè all'Italia dopo, alla fine del 1849. Ed è qui che comincia il nostro discorso, in questo libro. Dove queste, le litere giornali negli anni precedenti si erano compromesse con i loro, con i rispettivi sovrani, avevano collaborato, perché in questa prospettiva confederale i sovrani avevano dato le costituzioni, eccetera, eccetera, e quindi avevano collaborato con i rispettivi sovrani, col Granduca in Toscana, col Papa anche, che anche il Papa ha concesso uno statuto e ha fatto fare delle elezioni a Roma, c'è stato un Parlamento a Roma nel 48, non dimentichiamoci, a Napoli, nel regno di Sardegna. Ora, con la seconda restaurazione, c'è abbiamo, ciascuno di questi sovrani torna sui suoi passi e volta le spalle alle élite con cui avevano dialogato negli anni precedenti. e il Granduca di Toscana, qui c'è il saggio di Mauro Moretti, lui fa il concordato con la Chiesa, lui che veniva dalla tradizione leopoldina, ultralaica, eccetera, eccetera, compare a Firenze vestito in divisa, di ufficiale austriaco, in divisa bianca, revoca lo statuto e fa una riforma, una controriforma universitaria, perché le università sono il luogo di Traborz, si direbbe oggi. Quindi è bene disperdere, spacchettare le facoltà e in qualche modo a Napoli sapete tutto quello che succede, la gente in galera, molti che scappano, eccetera. Il Papa si rifugia a Gaeta e torna con le armi francesi, revoca lo statuto e inaugura la politica reazionaria, diciamo, che percorre tutti gli anni 50 e 60, fino alla breccia di Portapia. L'Austria, nel Lombardo-Veneto, torna con sentimenti agguerriti, e insomma, se si pensa, senza fare della retorica, ma insomma, se si pensa alle impiccagioni di Belfiore e quello che turbarono le coscienze dei contemporanei, anche perché la maggior parte di questi erano preti. Ecco, quindi in questa situazione è il Regno di Sardegna che resta l'unico Stato che a modo suo mantiene l'impostazione del 48-49. e questo cominciano tutte le vecchie elitte regionali a non fidarsi più dei rispettivi principi e a cominciare a guardare al Regno di Sardegna. C'è una migrazione di massa dai vari stati nel Regno di Sardegna che qui è studiata benissimo dal saggio di Adriano Viarengo, soprattutto nella Torino degli anni 50. ecco il Piemonte diventa e acquista un significato nazionale e la sua politica liberale in Piemonte si emancipano gli ebrei e sono stati emancipati i valdesi e lo statuto resta in vigore anzi il conte di Cavour ne inaugura una lettura di tipo parlamentare e quindi insomma applica il principio di maggioranza che non era previsto dallo statuto dalla lettera dello statuto il conte di Cavour si butta nella politica nella grande politica europea e partecipa alla spedizione in Crimea e partecipa poi alla conferenza di pace di Parigi nell'aprile del 56 quando Vincenzo Salvagnoli dalla Toscana manda a Cavour e Cavour può parlare e parla per il Regno di Sardegna ma a Parigi si presenta come rappresentante italiani le elite italiane lo sentono come uno che parla per l'Italia è la prima volta che in un consesso internazionale uno c'è un uomo politico che bene o male sente da avere alle spalle l'opinione pubblica italiana quando Salvagnoli alla fine del convegno i patrioti toscani gli mandano un busto di Cavour con scritto sotto colui che la difese a viso aperto è chiaro che in qualche modo esprimevano un senso comune ora noi abbiamo cercato in questo mi è parso anche leggendo però su questo chiaramente Francesca Brunette ne sa più di me mi è parso anche che i patrioti diciamo i trentini che hanno cercato di però forse la mia lettura sia una lettura come dire non non azzeccata che hanno cercato di portare avanti il discorso trentino di autonomia trentina all'interno delle istituzioni diciamo pure del Reich tedesco della cioè all'interno quindi del 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 parlamento di Francoforte poi della costituente di Vienna eccetera eccetera non abbiano avuto da questo punto di vista garanzie effettive di una autonomia possibile all'interno dell'impero o comunque probabile e probabilmente anche questo è stato è stato un primo elemento che li ha spinti negli anni cinquanta a guardare invece che al di là delle Alpi al di là del Garda e quindi in qualche modo immaginare un'autonomia trentina in un'altra collocazione e in un'altra situazione geopolitica però questo lo ripeto è una mia lettura su cui vorrei forse ho letto male o ho forzato come dire la lettura che è stata fatta da Brunette noi abbiamo cercato di cogliere questo passaggio che ho riassunto attraverso uno il rapporto fra le culture regionali e come si muovono le varie culture regionali all'interno di questo decennio in questa prospettiva di nazionalizzazione delle elite culturali quando io dico così non voglio dire che era una marcia trionfale è chiaro che per esempio è un fatto acclarato che le dinastie fino in fondo mantenero come dire spazi di consenso all'interno dei rispettivi paesi e qui c'è il saggio di Merigi sul il regno di Sardegna che lo mostra ecco fa uno zoom su questo molto molto come sa fare lui da grande storico molto interessante su questa manifestazione di lealismo politico filogorbonico ecco e quindi come anche in Toscana ci sono stati dei legittimisti un po' dappertutto come dire io credo che la che la nonna di Franco Maironi anche dopo il 1859 sia rimasta austriacante non è che sia diventata sia diventata italiana insomma ecco il però accanto quindi a questi residui di diciamo di presenze di legittimismo che ci furono più o meno forti più o meno anche a Roma col Papa fino a fondo quando ci sono stati ecco i genitori di Gaetano De Santis il grande storico di Roma antica dopo il 1870 si tennero totalmente al di fuori dello Stato italiano in un atteggiamento di gran dispitto si potrebbe dire rispetto al nuovo regno che si affermava a Roma però abbiamo cercato di vedere come nelle altre culture si muovevano quindi abbiamo fatto quest'analisi Paolo Vianne sulla cultura romana Viarengo lo ripeto sulla cultura piemontese Mauro Moretti lo ho accennato sulla cultura toscana Francesca Brunette su Giovanni Apprato e il Trentino Patrizia Paradisi su Modena Francesco Selmi e la cultura modenese Marangon e Marangon su il Veneto dei Fogazzaro della famiglia Fogazzaro e abbiamo anche cercato di valutare l'importanza dell'immigrazione intellettuale che ci fu non soltanto a Torino ma anche a Genova e in tutto il regno di Sardegna e uno degli esempi più importanti di questa immigrazione intellettuale è Giuseppe Massari la figura studiata qui da Francesco Brui Massari era il grande amico di Gioberti poi sarà il futuro biografo di Vittorio Emanuele II insomma è un personaggio molto cospicuo dell'establishment dell'establishment del Regno d'Italia insomma dei decenni successivi abbiamo affrontato l'eterno problema della lingua ora qui abbiamo davanti Mario Allegri che è un grande storico della letteratura se io parlo di lingua dico delle cose inesatte quindi sto zitto però è chiaro che è un eterno è un eterno problema della storia d'Italia ed è chiaro che nell'ottocento nella misura in cui si sentiva che stava maturando una qualche soluzione non era prevista forse inizialmente anzi non era prevista per niente inizialmente la soluzione a cui si arrivò la soluzione unitaria sotto una monarchia costituzionale alcuni dicevano che bisognava fare una repubblica un'Italia altri una confederazione di repubbliche altri una confederazione degli stati così com'erano però che il problema italiano dovesse avere una soluzione questo era maturo nelle coscienze non solo in Italia guardate ma in buona parte d'Europa era anche perché si temevano e su questo Cavour che come dire fece leva si temeva che poi il problema la soluzione venisse offerta dai rivoluzionari e la rivoluzione nessuno la voleva quindi era meglio prevenire diciamo così piuttosto che trovarsi davanti a un'esplosione rivoluzionaria in quello quindi il problema della lingua via via che si avvicinava che maturava questa soluzione si ripropose è inutile che vi ricordi tutte le elaborazioni che ci furono in specie quella di Manzoni e anche se Massimo Fanfani è parecchio è parecchio critico nei confronti della soluzione della soluzione manzoniana però è inutile che vi ricordi Tommaseo il famoso dizionario Tommaseo Bellini qui viene studiato la sua genesi nel scarteggio con un altro grande italiano di quegli anni che fu Giuseppe Pomba il grande il grande editore torinese abbiamo appunto fatto uno zoom anche sull'egittimismo in qualche modo quello di di Marco Meriggi su quello meridionale ma anche sull'esperienza di Massimiliano d'Austria nel nel viceregno Lombardo-Veneto intorno al 1957 58 anche lì ci furono qualcuno che la società Lombarda resistette alle sirene di Massimiliano sostanzialmente ma ci fu qualcuno che invece non resistette ecco Giuseppe Rovani pover uomo l'autore dei cento anni per la collaborazione che prestò ai tentativi editoriali di Massimiliano poi ha avuto la vita rovinata dopo il 1859 il il nel 1880 negli anni del moderatismo sto finendo non vi preoccupate negli anni del moderatismo negli anni 40 perché furono anni di grande unità nazionale perché si riteneva possibile la coniugare la libertà come si diceva a quel tempo la patria come si diceva a quel tempo e la religione e la maggior parte degli italiani era cattolica e o per convenienza o per fede o per tradizione o per lealtà e si riteneva in quegli anni emersero una serie di pensatori che dicevano fra l'essere italiano e l'essere cattolico non c'è contraddizione anzi più sei buon cattolico più sei consapevole delle grandi tradizioni dell'italia perché le grandi tradizioni italiane sono cattoliche questo è il neo-welfismo di Gioverti degli anni 40 su questo si crea lo ripeto una specie di quasi unanimità quasi unanimità e che arriva al diapason quando poi Pio IX diventa come dire papa a metà di giugno del 1846 però il fallimento della rivoluzione nazionale è anche il fallimento clamoroso di Pio IX e clamoroso Pio IX come è stato detto da un recente studioso dal mito di Pio IX si passa all'antimito di Pio IX e nelle campagne toscane ancora io ho sentito i vecchi che imprecavano dicendo tra una bestemmia e l'altra accidenti a Pio IX e erano passati 100-120 anni come dire dalla 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 morte dalla morte di Pio IX quindi diventa diventa un antimito diciamo così ora questa rottura fra la religione e la causa nazionale è stata esaminata diciamo così da parte mia in un saggio su il primo prete che rompe pubblicamente con la chiesa e che porta avanti una forte polemica anti religiosa e anti cattolica e che è questo prete genovese che assunse il nome di Ausonio Franchi e lo so che può sembrare un illustre sconosciuto oggi ma vi assicuro che negli anni 50 fu un personaggio veramente di primissimo piano nelle polemiche e nella stampa là dove si poteva stampare liberamente perché non dimentichiamocelo che l'unico paese in cui si potevano stampare queste cose era il regno di Sardegna perché lì esisteva una qualche libertà di stampa negli altri paesi io ho guardato ho fatto un esame del crepuscolo che si stampava a Milano questa bellissima rivista di Carlo Tenca che è molto ardita sul piano religioso più ardita di quello che si pensi più ardita di quello che si pensi ma perché l'Austria poneva il problema parum de Deo nil de Principe era questo il suo obiettivo quindi sul piano della religione faceva un pochino non era infatti la civiltà cattolica se la prende varie volte col crepuscolo e mette chiaramente in evidenza diceva come gli austriaci che fanno non si rendono conto di quello che stanno facendo pubblicare e Mario ha fatto questo mirabile saggio sulla civiltà cattolica che è invece l'altro aspetto cioè la cultura cattolica intransigente che in qualche modo rifiuta e svolge bisogna dirlo io l'ho trovato e Mario lo mette in evidenza una un ruolo oggettivamente delatorio delatorio perché è informatissima di quello che si sta pubblicando e che si sta dicendo in ogni parte d'Italia e segnala dice ma il prete tra detali a Cremona dice queste cose ma è possibile che il commissario di polizia non se ne sia accorto che nelle sue omelie sta pubblicando questo o quest'altro quindi la separazione fra il il moto nazionale e il cattolicesimo ufficiale poi la maggior parte dei cattolici cattolici variamente liberali non si spaventarono diciamo dell'Italia ma il cattolicesimo ufficiale il cattolicesimo ecclesiastico comincia quel cammino che poi lo porterà al sillabo del 1864 eccetera eccetera e l'ultimo aspetto interessante direi molto interessante le donne ovviamente abbiamo Simonetta Soldani ha messo in evidenza il ruolo che alcune pensatrici italiane hanno avuto nel cercare di indicare quale doveva essere guardate che il ruolo delle donne nel risorgimento è un ruolo complicato perché troppo spesso i nostri patrioti fanno appello alle donne alle mamme alle spose perché le sentono come un freno alla lotta nazionale perché evidentemente diciamo pure in non pochi casi non erano tutte come la madre di Mazzini che diceva al figlio al figlio vai fai la tua vita fai la tua lotta eccetera eccetera davano i consigli da quello che si legge pensa alla tua famiglia non ti esporre guarda che rischi hai mogli e figli le cose che le cose che spesso tutti abbiamo sentito dirci in varie fasi della nostra vita quindi il fatto questo appello che viene fatto spesso alle donne alle donne alle donne italiane da vari tutti direi i rivoluzionari di allora è significativo insomma ecco che e la Simonetta Soldani ha da questo punto di vista individuato alcune pensatrici e la visione del ruolo che le donne potevano avere e nel processo di educazione perché di questo si trattava si trattava di educare a un questo comune senso di appartenenza e poi anche nella nella direi che è una delle relazioni tra l'altro con vari aspetti di novità anche per alcune di queste donne io conoscevo da da Toscano Caterina Franceschi Ferrucci perché tra l'altro è vissuta fra Firenze e Pisa però ecco ci sono diverse figure finisco il 48 aveva detto l'Italia farà da sé e facendo da sé l'Italia aveva perso evidentemente non ce la faceva a fare da sé davanti a un colosso della dimensione dell'impero austriaco e questo viene capito benissimo in molte delle analisi successive alla sconfitta e qui nasce insomma l'idea del conte di Cavour di inserire il problema italiano in un contesto europeo e quindi in qualche modo di fare di coinvolgere nella questione italiana un'altra grande potenza europea che potesse riaprire la lotta sui campi d'Italia come nel 500 fra la Francia e l'impero quella che noi chiamiamo la seconda guerra d'indipendenza lo sapete benissimo è di fatto una guerra austro-francese o franco-austriaca che ha nella battaglia di Solperino che è una delle grandi battaglie del XIX secolo una delle grandi battaglie cioè per numero di caduti per dimensioni una delle grandi battaglie Carlo Cattaneo scrive ma dopo Solperino l'Austria cadrà tutta a pezzi perché dopo una sconfitta di queste dimensioni come fare stare in piedi ora quindi il problema dell'intervento di Napoleone III in Italia è un problema insomma che viene ricostruito da Eugenio Di Vienzo che mette in evidenza da subito alcune cose fondamentali e sono giuste il rilievo europeo di quello che noi chiamiamo il risorgimento italiano con la guerra del 59 la guerra del 59 sposta gli equilibri geopolitici come si dice oggi a livello continentale perché l'Austria perde dell'Italia l'aveva dal 1715 sostanzialmente dalla fine della prima guerra di successione questa la costringe a maggior ragione la costringerà poi la sconfitta del 66 la costringe all'inorientamento come l'aveva previsto Cesare Balbo cioè la costringe a voltarsi verso i Balcani qui si trova davanti gli Slavi qui si trova davanti presto la Serbia qui si trova davanti la Russia e quindi capite bene quale prospettiva questo che arriva fino al 1914 l'altro aspetto è che il fronte italiano perde di importanza e riacquista l'importanza il fronte renano e quindi il conflitto franco tedesco che già si ha nel 1870 e anche qui siamo al 1914 guardate il modo con cui gli austriaci di fatto accelerano la guerra nell'aprile del 59 a me ha sempre ricordato il modo con cui l'accelerarono nel luglio del 1914 la volontà di un impero in qualche modo di cercare di sbarazzarsi di un avversario che stava diventando per loro insopportabile una sfida insopportabile la Serbia nel 1914 il piccolo regno di Sardegna nel 1859 ci sono le stesse reazioni di comando ora voi sapete che il regno di Napoleone non veniva in Italia a fare una scampagnata veniva in Italia perché voleva la leadership l'egemonia su tutta l'Italia voleva un regno del nord in mano a Isavoria ma poi voleva il centro e il sud in mano a due Napoleonidi sulla base dell'esperienza dello zio che aveva dato l'Italia a cugini nipoti sorelle eccetera eccetera non andò così perché dopo Villa Franca nel luglio del 59 si svegliarono la Toscana Modena Parma le legazioni le quali lì si vede il frutto della nazionalizzazione dell'elite che si era avuto nel decennio precedente e questo sono questi movimenti di questi paesi che avvengono da sé che in qualche modo mandano all'aria il disegno napoleonico mandano all'aria il disegno napoleonico e che avviano concretamente una via diversa che nessuno aveva immaginato prima del 1859 e queste regioni la Toscana l'Evilia e la Romagna si mossero perché nel decennio precedenti le loro elite culturali e politiche avevano voltato le spalle ai rispettivi sovrani e avevano cominciato a guardare al regno di Sardegna ho finito grazie grazie molte per questo panorama che col quale siamo riusciti diciamo seguendo un filo rosso complesso a dipanarci in quasi tutti i saggi e i contributi che caratterizzano questo volume che è un volume complesso è molto ricco di esperienze e proprio per questa ragione passerei adesso ad un focus di natura anche regionale proprio perché questo processo di nazionalizzazione dell'elite sulla base di esperienze politiche pregnanti si muove all'interno di culture regionali che prima dell'unità hanno una propria specificità proprio per capire quanto queste possono essere specifiche chiederei a Francesca Brunet di proporre un affondo sulla figura di Giovanni a Prato che non è forse notissimo al di fuori del Trentino però è una di quelle figure che vive queste esperienze politiche pregnanti in grandi consessi diciamo assembleari e parlamentari e che pur essendo ai confini dello spazio linguistico italiano mostra anche questo processo progressivo di presa di consapevolezza di una specificità culturale pur provenendo da una regione che si trovava in un contesto politico molto diverso chiederei a Francesca di proporre un affondo anche di natura biografica e pubblicistica legato all'attività giornalistica di questa figura che è un po' uno dei rappresentanti di questi moti sotterranei appena delineati grazie 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 Francesco dopo questa bellissima panoramica generale di Roberto Perti ci vado appunto a cerco di cogliere i punti essenziali del contributo del mio contributo nel volume che come avete anticipato approfondisce una figura un poco esterna in un certo senso più ai margini di quello che è forse il focus geografico del volume cioè appunto quella di Giovanni Aprato una figura attraverso la quale è possibile indagare almeno mi è stato possibile indagare cosa significasse pensare gli italiani o più esattamente pensarsi italiani in Tirolo quindi nella parte meridionale della provincia tirolese tenendo specialmente conto del fondamentale spartiacque della storia europea del 1848 allora nel mio nel mio saggio accenno e secondo me vale la pena ripeterlo anche adesso il fatto che diciamo per i tirolesi italiani cioè perché prendo lo spartiacco del 48 come punto di riferimento perché fino ad un certo momento per i tirolesi di lingua italiana pensarsi italiani non coincideva per forza possiamo dire coincideva raramente con una presa di posizione ideologica contrapposta all'Austria nel mio saggio accenno a due figure che in questo senso sono molto emblematiche ossia Antonio Mazzetti e Paride Zaiotti che furono entrambi giudici al servizio dello stato asburgico con una carriera piuttosto brillante entrambi finirono presidenti di tribunali Mazzetti del tribunale d'appello Lombardo e Zaiotti del tribunale di prima istanza di Trieste entrambi appartenero ad una generazione precedente a quella di Prato morirono nei primi anni 40 dell'Ottocento Mazzetti fu un importante collezionista di documenti un erudito un bibliofilo la sua enorme sterminata collezione ora conservata alla biblioteca comunale di Trento è diciamo il cuore della biblioteca comunale di Trento il secondo Zaiotti ebbe diciamo una sorta di carriera parallela in ambito letterario fu un critico letterario e diciamo a mio avviso sia Mazzetti che Zaiotti mostrano come nel Trentino nei primi decenni dell'Ottocento per quel gruppo di studiosi e di funzionari però con diciamo passioni letterarie con attitudini letterarie interessati diciamo agli studi umanistici che si erano formati tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento ecco per loro si potesse benissimo pensarsi italiani e anche spendersi spendere la propria energia il proprio tempo anche il proprio denaro pensiamo appunto alle collezioni di Mazzetti per la promozione lo studio della cultura e della letteratura dell'erudizione italiana e intrattenere rapporti in modo stretti con gli intellettuali con gli studiosi della penisola italiana ma allo stesso tempo non mettere in alcun modo in discussione l'assetto istituzionale e statale diciamo entro il quale si collocavano anche i territori italiani dell'impero asburgico e Mazzetti e Zaiotti sono particolarmente significativi perché in loro appunto non c'è nessuna contraddizione tra questa diciamo queste aspirazioni erudite rivolte in buona parte verso sud e la loro posizione il loro ruolo istituzionale specialmente nell'ambito dei processi politici contro le sette carbonare contro la giornata in Italia che famosi processi che ebbero luogo a Venezia e Milano negli anni 20 e 30 dell'ottocento solo più avanti e in modo più evidente con la frattura del 48 pensarsi portatori di un'identità culturale di un'identità linguistica italiana iniziò a tradursi anche su un piano politico cioè in una precisa proposta politica e istituzionale e appunto nel mio contributo ho cercato di definire analizzare i contorni di questa proposta dalla particolare prospettiva di Giovanna Prato come dicevo che fu un sacerdote un parlamentare un giornalista una figura centrale del secondo ottocento trentino e non solo trentino e anche per questo effettivamente piuttosto sorprendente che sia quasi sconosciuta di fuori della nostra provincia fu un protagonista e un animatore del partito liberale uno strenguo difensore nonostante l'abito talare di un approccio laico alla politica e soprattutto fu appunto al fiere dell'autonomia del Tirolo italiano Giovanna Prato per dare qualche minima coordinata biografica nacque a Trento nel 1812 da una famiglia di Segonzano a Trento frequentò il seminario vescovile venne ordinato sacerdote trascorse poi ventenne alcuni anni a Vienna al Frintaneum cioè l'istituto di sublime educazione ecclesiastica dove ottenne un dottorato in teologia tornò quindi in Trentino iniziò a lavorare come insegnante di religione al Ginasio Liceo di Rovereto e qui iniziò a lavorare nel Ginasio Liceo nel 42 fino a quando nella primavera del 48 viene si candida e viene eletto da prima come deputato alla Nazionale Fra Samblung appunto l'Assemblea Costituente Nazionale che si riuniva presso la Pauskirche di Francoforte sul meno alla quale come noto vennero chiamati a partecipare i rappresentanti dei vari paesi che costituivano il Deutsche Bund cioè la Confederazione Germanica che era questo diciamo organismo che comprendeva diversi territori tra i quali anche parte dell'impero asburgico tra cui anche territori italiani cioè il Tirolo Meridionale il Triestino e il Goriziano dopodiché Prato venne eletto nei mesi successivi anche al Reichstag di Vienna che poi si sposta a Kremsir cioè la dieta dell'impero che anch'essa fungeva da assemblea costituente ecco l'impegno di Giovanni Prato all'interno di questi due consessi e soprattutto a Francoforte si tradusse specialmente nella battaglia per l'autonomia amministrativa del Tirolo italiano anche se non vanno sottovalutate altre significative prese di posizione in senso diciamo liberale come l'abolizione dei privilegi genobiliari l'abolizione della pena di morte la presa di posizione in favore della libertà religiosa e della laicità dello Stato un tema tra l'altro quest'ultimo lo dico adesso così risfuggita che per cui Prato si sarebbe speso per tutta la vita e che gli costò anche molto caro nel senso che gli costò appunto la sospensione la chiusura della sua carriera politica qualche decennio più tardi ecco quello che però vorrei mettere il primo punto che vorrei mettere in luce in questo mio intervento sono i termini della proposta politica di Prato a questa altezza cronologica e all'interno di queste due assemblee costituenti proposta che come sappiamo fallì cioè vale a dire potremmo dire potremmo dirla in questi termini il modo in cui per Prato l'italianità l'italianità culturale l'italianità linguistica del Tirolo meridionale si tradusse in un progetto politico in un progetto geopolitico anzitutto la separazione del Tirolo meridionale dall'Austria e una sua diciamo ipotetica missione ad uno stato italiano ad un ipotetico stato italiano unitario non era neanche contemplata non era contemplata né diciamo a livello pubblico nei suoi interventi nei suoi articoli nei suoi interventi pubblici all'assemblea e nei suoi interventi nei giornali ma neanche nelle sue conversazioni private intendo con ciò nei suoi carteggi privati privatissimi quelli con gli amici più stretti quelli con i suoi fratelli ecco una ipotesi diciamo secessionista del Tirolo meridionale non è non viene mai contemplata da Prato in questa altezza cronologica e per Giovanni a Prato l'affermazione e la difesa dell'italianità cioè dell'identità nazionale del Trentino avrebbe richiesto un intervento diciamo un intervento istituzionale cioè quindi non territoriale non bellico ma un intervento istituzionale volto ad ottenere appunto l'autonomia amministrativa della parte meridionale della provincia tirolese e di una sua eventuale annessione al Regno Lombardo Veneto quindi sempre all'interno della cornice dell'Impero Osburgico Prato tra l'altro auspicava la creazione di una lega italiana cioè una sorta di diciamo confederazione gemella parallela quella del Germanica Sì esattamente quella Germanica il Deutscher Bund quindi anche qua in questo caso un organismo sovrastatale che come dire nel quale anche l'impero Ostria l'imperatore d'Austria avrebbe dovuto entrare a far parte con le sue province italiane che avrebbero continuato ovviamente a far parte dell'impero si tratta di una posizione che mi sembra possa essere a costa diciamo questo federalismo con un respiro europeo mi sembra possa essere accostato forse più alla posizione al federalismo di Carlo Cattani piuttosto che a quello di Gioberti comunque come peraltro comprensibile come ha anticipato anche Roberto Pertici la posizione di Prato sarebbe in seguito mutata a voi per la delusione del fallimento della proposta politica dei deputati trentini nel bienio 48-49 ma anche contestualmente all'evoluzione nei decenni successivi del quadro geopolitico internazionale specialmente dopo la guerra del 66 la posizione di Prato si sarebbe spostata verso lì di più apertamente in redempisti anche se rimane in lui un rifiuto assoluto alle eventuali soluzioni belliche per la via diplomatica ad ogni costo ma si tratta appunto di un altro momento storico di un altro contesto geopolitico che nel mio contributo non ho voluto approfondire insomma per coerenza con la cornice cronologica del volume e l'esperienza parlamentare si chiude bruscamente con lo scioglimento del Reichstag per volontà dell'imperatore e con la concessione della cosiddetta costituzione ottriata del marzo del 49 e quindi anche la vita pubblica e politica di Prato si ridimensiona decisamente torna in Trentino perde il posto al ginnasio liceo di Rovereto proprio come conseguenza della sua esposizione pubblica dei mesi precedenti anche per una temuta cattiva influenza che gli avrebbe esercitato sulla gioventù roveretana Prato allora si diciamo dal punto di vista professionale si ritira a vita più privata inizia a fare il precettore presso una famiglia di parenti dove rimarrà per tutta la vita però allo stesso tempo inizia a dedicarsi al lavoro giornalistico che è una sua altra importantissima attività pubblica e politica in senso lato per così dire già nel 48 aveva iniziato cioè nelle vesti di deputato aveva iniziato a collaborare con il roveretano messaggero tirolese ma è nel maggio del 1850 che fonda la sua prima diciamo creatura giornalistica che è il giornale del Trentino un nome che è già un manifesto un giornale del Trentino è una come è scritto Marcello Bonazza una dichiarazione di appartenenza e costruzione territoriale la testata resistette fino per un anno e mezzo circa fino a settembre del 1851 quando la svolta neoassortista della monarchia asburgica anche sul piano della libertà di stampa ecco e anche come dire una serie di difficoltà pratiche finanziarie fisiologiche si potrebbe dire suggerirono a Prato di chiudere il giornale però nonostante la breve durata il giornale del Trentino segna un punto di rottura nel panorama giornalistico della regione di cui rappresenta si potrebbe dire la prima espressione moderna ponendosi programmaticamente come strumento educativo questo è proprio diciamo l'intento dichiarato del giornale del Trentino quello di formare cittadini nuovi cittadini consapevoli quindi sono articoli anche piuttosto tecnici che spiegano le nuove leggi che spiegano una serie di che dando una serie di strumenti ai lettori per potersi orientare nella sfera nella sfera pubblica e il giornale si pone anche come diciamo osservatorio degli altri stati degli stati italiani della penisola quindi vi sono diversi articoli sui passi avanti in senso liberale oppure anche i passi indietro in senso reazionario degli stati della penisola in particolare soprattutto Prato guarda al Piemonte con particolare simpatia il giornale del Trentino tra l'altro è anche bersaglio più volte della civiltà cattolica e ecco se guardiamo alla biografia di Prato nel decennio oggetto di questo volume io ho iniziato dal 48 ma diciamo 48 e 59 ecco si può dire che la sua attività se non più significativa ma quantomeno più intensa pubblicamente e politicamente più esposta si concluda qui nel 51 nell'autunno del 51 quindi dopo il periodo di deputato alle due assemblee costituenti e poi il vienio scarso di direttore del giornale del Trentino Prato fondò poi in realtà ma siamo oltre i limiti cronologici del volume fondò altri due giornali il Trentino nel 1868 e il nuovo giornale del Trentino nel 73 però già a partire dagli anni 50 insomma per tutti gli anni 50 collaborò con con una serie di testate trentine ed extra trentine continuò la sua collaborazione con il messaggeri tirolese con il messaggeri di Rovereto e soprattutto collaborò con il già citato Crepuscolo il giornale milanese di Carlo Tenca una specie di mi verrebbe da dire fratello maggiore spirituale del giornale del Trentino che al contrario di questo resistete per tutto il decennio per tutti gli anni 50 fino alla nessione della Lombardia al Piemonte ecco vorrei chiudere brevemente non dirò nulla sulla biografia politica di Prato dopo il 59 che potrebbe essere oggetto di un ulteriore di un ulteriore contributo e voglio solo aggiungere brevemente questo cioè che per tutto il corso del decennio oggetto del nostro volume fino agli anni 50 inoltrati Prato fu costantemente tenuto d'occhio tenuto sotto osservazione sotto controllo dalle autorità governative e di polizia compare in tutti gli elenchi delle persone ritenute politicamente pericolose del terreno meridionale molti sono ripetitivi sono praticamente tutti uguali o quasi però nella loro ripetitività è interessante notare come questi questi rapporti insistano specialmente su due aspetti come dire della figura di Giovanna Prato prendo un attimo il volume ossia da un lato sulle ottime capacità intellettuali così appunto si esprimono questi rapporti che descrivono Prato come uomo molto intelligente dotato di cognizioni preziose e dunque cito ancora tanto più pericoloso quanto più dotato di ingegno dall'altro però malgrado peraltro i documentati rapporti e contatti con i rapporti noti rivoluzionari ed esaltati e il suo essere egli stesso strengo partitante della rivoluzione forse qui Bucchino si esagera diciamo comunque quello che viene un altro aspetto di lui che viene enfatizzato il suo essere molto prudente ecco quindi intelligenza e prudenza dunque sono le due qualità quantomeno le due caratteristiche che vengono rilevate da questi rapporti di polizia che permisero si potrebbe dire a Prato di superare quasi indenne questo decennio neoassolutista oggetto del nostro volume dico neoassolutista anche dalla prospettiva diciamo dell'impero sburgico e gli permisero di partecipare in vari modi e con vari livelli di intensità alla vita pubblica del suo paese grazie grazie molto Francesca per questo affondo affondo biografico che chiarisce molto anche di come la porzione meridionale del Tirolo partecipi a questo processo che è un processo geograficamente vicino ma politicamente non scontato che mette in mostra come ci siano diciamo azioni e reazioni e anche emoti non sempre leggibili in maniera teleologica e come le esperienze politiche dei singoli giochino un ruolo in tutto questo chiederei a Mario Allegri di partire da questa considerazione per proporre a sua volta una riflessione che ci porti anche verso la conclusione su come diciamo il mondo cattolico viva questo processo che è un processo lungo contastato caratterizzato da regionalismi diversi e che anche per i cattolici non è un processo univoco ma che può essere letto secondo tensioni o spinte diverse e in alcuni casi addirittura opposte al punto tale da sembrare quasi antilibertarie a lui la parola la parola competente perché è curatore del volume oltre che autore di uno dei saggi quindi insomma immagino anche la sua capacità di proporre una una sintesi partendo da questo nodo che che sembra molto settoriale ma che in realtà riguarda praticamente tutti i protagonisti ricompresi all'interno del volume prego va bene grazie intanto devo fare una comunicazione d'ordine interna io alle 7 10 devo andare assolutamente via perché vado a raccattare mia moglie che fa la volontaria in un posto non proprio bello e quindi devo andare poi faccio una una riflessione perché mentre ascoltavo Pertici e la Brunette ma dico sempre questo io io ringrazio l'Accademia degli Agiati perché mi ha sempre dato la possibilità di di conoscere ogni volta personaggi nuovi di una statura culturale molto alta molto 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 propositiva molto 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 complessa prima ascoltando la bellissima prolusione io devo dire di Pertici è stata veramente bella veramente bella e anzi dopo di quella ho detto mi sono detto cosa devo dire io e poi la Brunette che è molto brava e che porta in campo questo tema che a me sta particolarmente a cuore perché io sono entrato in Accademia sono entrato a contatto con questi questi personaggi roveretani con l'ambiente roveretano trentino studiando proprio uno di questi personaggi che che è Tommaso Gar ma ce ne sono ma ce ne sono tantissimi altri che non figurano mai né manuali di storia nazionale né manuali importanti e forse anche sono 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 molto poco studiati e che invece sono estremamente interessanti sia per il luogo da cui vengono no che poi è un luogo che per la nostra storia nei successivi nei successivi cento anni almeno cento anni si è imposto alla cronaca alla cronaca non sempre felice alla cronaca politica alla cronaca anche anche militare o addirittura rivoluzionaria se penso giustamente io ho sempre pensato che per l'alto adige se l'Austria se l'Austria non avesse fornito il 90% e oltre degli ufficiali delle SS probabilmente nel 1945 alla conferenza di pace poi dopo l'ultima guerra mondiale una parte una parte della regione sarebbe senz'altro ritornata all'Austria e lì c'è evoluto un personaggio della statura di Alcide De Gasperi che non a caso però viene fuori da questa cultura viene fuori da questa familiarità con il mondo tedesco che in Italia è unica che in Italia è unica e che invece avrebbe dovuto essere molto diffusa perché la nostra storia si incrocia per almeno due secoli con il mondo austro-tedesco e la condiziona e la condiziona diciamo fortissimamente ecco quindi molto interessante anche questo personaggio Zoran Battista Prade che ho conosciuto qualche anno fa la brunetta adesso lo ha svolto e lo studia lo studia tantissimo viene studiato nel suo ricchissimo epistolario eccetera eccetera ma cosa posso dire di questo libro posso dire intanto come nasce 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 ma lo dico nell'introduzione nasce da alcuni convegni che abbiamo fatto su Nicolotto Masero che è un altro personaggio che non gode di bellissima stampa sui manuali diciamo di storia letteraria forse perché come dico non ha un'opera unica per cui possa essere riconosciuta una gran fesseria io penso perché il dizionario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi due imprese di questo genere sono di una meritorietà e di un valore assoluto no e poi poi ci sono anche i canti popolari che sono l'unica opera romantica italiana lo dimentichiamo sempre sui manuali si dimentica che l'unico romantico italiano veramente romantico italiano è il Tommaseo dei canti dei canti dei canti popolari no ecco studiando Tommaseo che ha un epistolario smisurato sconfinato si parla di oltre 65.000 lettere soltanto a Firenze no sono tutti fuori una serie di personaggi personaggi minori di personaggi laterali si può usare ancora questa questa categoria di minore che ci hanno suscitato molta curiosità ed interesse e per non smettere di lavorare con gli agiati con i nostri convegni con i nostri seminari eccetera una mattina mi ricordo eravamo all'Istituto Veneto con Francesco Bruni e ha detto continuiamo magari su questo su questa direzione in questa direzione e c'è venuto fuori questa questa formula pensare gli italiani allora noi noi abbiamo sempre in mente la frase no la frase la frase famosissima che forse non è stata nemmeno pronunciata come tante altre frasi famose fatta l'Italia va bene facciamo gli italiani bisogna fare gli italiani lo sforzo maggiore almeno nella mia nella mia mente nella mia considerazione ma non soltanto mia anche quella dell'amico Francesco Bruni e poi di Pertici con cui abbiamo messo e di Fabrizio Rasera il sforzo maggiore secondo me è stato ancora prima è stato è stato questo come ha illustrato benissimo Pertici Roberto Pertici prima parlando dell'importanza degli anni 40 degli anni 40 soprattutto quando si formano si formano queste elite diciamo culturali che hanno un denominatore nel riconoscersi facenti parte facenti parte di una civiltà intanto ma un attimo fa pensavo io mi ricordo studiando la viennese di Gian Battista Bolza che non è il poliziotto non è il poliziotto milanese le Cinque Giornate ma è un altro ma è un altro personaggio e mi ricordo che c'erano nel circolo degli italiani a Vienna attorno a questa questa rivista viennese c'era una un'autoconsiderazione e un'autoconsapevolezza degli italiani tra virgolette diciamo austriacanti come sono stati definiti poi e dimenticati per questo di essere parte di una civiltà comune di una tradizione comune di una identità comune alla quale mancava come ha detto Pertici prima va bene mancava la realizzazione in una in uno in uno stato mai presupposti di quello che è successo dopo vengono veramente messi messi allargati discussi ed ampliati proprio negli anni 40 come come ha detto Roberto come ha detto Roberto e quindi lo sforzo maggiore secondo me interessante è stato quello su cui valeva la pena di 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 dedicare di dedicare un libro di ritornarci su insomma perché certamente certamente questo libro non esaurisce i italiani ci sono migliaia di sfumature centinaia di sfumature almeno di personaggi che in qualche modo si avvicinano a questo pensarsi italiani lo sfiorano se ne ritraggono per qualche tempo lo cullano lo accarezzano eccetera eccetera ma lo sforzo maggiore è stato quello di pensarsi anzitutto va bene come una possibile comunità dopo in un secondo tempo che anche qui la storia fa sempre questi scherzi no questo secondo tempo che magari qualcuno poteva pensare dopo 30 40 50 anni addirittura nel giro di un decennio si 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 realizza si realizza sorprendentemente ed è questa sorpresa poi che mette in campo tutti i problemi che sorgono dopo per lo Stato Unitario e che affronteremo e che saranno affrontati nelle due prime puntate ma io sono mi vergogno di dirlo anzi me ne vanto io sono un risorgimentalista risorgimentalista convintissimo credo che quella parte della nostra storia lì tra gli anni 20 30 40 50 60 sia una parte bellissima tragica tragica ma bellissima della nostra storia con personaggi fantastici con personaggi che meritano di essere di essere tratti dall'ombra dall'oblio dal ripostiglio della scopa delle scopre della grande storiografia sono personaggi che a un certo punto hanno messo in gioco tutto hanno messo in gioco tutto e molte volte anzi quasi tutti per molto tempo lo hanno perso hanno perso tutto quello che hanno messo in gioco la propria vita la propria la propria carriera la propria la propria professione la propria famiglia ci sono famiglie ci sono famiglie che si dividono perché penso ai D'Azeglio no famiglie che si dividono proprio in due partiti partiti netti e quindi sono sono personaggi di una di una statura intellettuale ma io direi soprattutto morale che a me fanno invidia che a me fanno invidia in questi questi nostri tempi in questi nostri giorni in cui dal punto di vista morale dal punto di vista dell'etica pubblica e dello sforzo verso una condivisione culturale morale ovvero pubblica fanno fanno veramente pensare oggi queste cose qui fanno tristezza fanno tristezza se se le paragoniamo a quei tempi e da quelle figure ecco e quindi mi sono entusiasmato di questi di questi di questi personaggi e sono contento che sia uscito che sia uscito questo questo volume e che sia uscito il prossimo in questo volume delle mie cose come hanno fatto come ha fatto la brunette anche senza senza magnificarle io mi sono interessato della civiltà cattolica io non ho nessun 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 problema a dichiarare non anticlericale perché non sono anticlericale ma non sono clericale ma semplicemente non sono medicale nelle discussioni che abbiamo fatto forse Roberto ce lo ricorderà e forse anche Fabrizio che magari ci ascolta alla società letteraria quando abbiamo in piedi giù questa traccia questa traccia a un certo punto ho detto ma scusate ma qua la civiltà cattolica dell'altra parte non ne parla nessuno e allora un po' un po' molto masochisticamente un po' molto masochisticamente me ne sono incaricato io in questi dieci anni questi questi dieci anni vogliono dire circa 32.000 pagine di civiltà cattolica che come prendere una purga per me è stato di civiltà cattolica mi ricordo che alla che alla relazione convegno queste 33.000 32.000 pagine non potevano essere non potevano essere diciamo riassunte se non non mi ricordo in una comunicazione di 20 minuti che magari ha lasciato perplesso qualcuno ma non potevo farcela in 20 minuti 20 minuti me ne sono lette tutte me ne sono lette tutte e ho verificato senza appunto nessun spirito anticlericale la volgarità anzitutto la volgarità e la cattiveria e la cattiveria di questa rivista e di tutto quello che c'è scritto veramente volgarità perché ci sono anche anche tantissime offensionali e cattiverie che insomma questi qui sono preti sono preti ma sono cattivi gioiscono delle 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 traversie degli esuli li prendono anche in giro ma soprattutto linguisticamente ma soprattutto linguisticamente se si legge la lingua di questi articoli allora va detto vanno detto due due tre cose molto semplici il giornale la rivista è di assoluta qualità dal punto di vista organizzativo sono bravissimi e da retto sono gesuiti non li scopriamo mica mica oggi è un giornale che viene organizzato subito all'istante dopo il fallimento della Repubblica Romana il primo numero esce proprio mentre Pionono sta attraversando la frontiera tra il regno di Napoli diciamo tra Napoli e lo Stato Vaticano e l'ex sempre lo Stato Vaticano lo Stato lo Stato lo Stato lo Stato Pontificio è organizzato benissimo con un lancio pubblicitario e nel giro di un di un paio d'anni un paio d'anni gli abbonati arrivano ad essere quasi 15.000 una cosa impensabile per allora no non solo ma questi redattori che non si firmano proprio per dare l'idea di un gruppo di un gruppo coeso ed estremamente battagliero sono di primissima qualità intellettuale sono di primissima qualità intellettuale sono di primissima qualità di penna di penna perché sanno sanno come umiliare sanno come prendere in giro sanno come come deridere gli avversari eccetera sono cattivissimi sono cattivissimi perché a un certo punto credo attorno al 52 diciamo 53 si rivolgono direttamente all'Austria e alla Francia anche perché vadano in Piemonte a mettere le cose a posto insomma proprio occupazione militare e senza storie no senza storie e sono loro che sono di un'intelligenza assoluta e di una cultura assoluta informatissima sono di un reazionario di un reazionario unico i loro obiettivi sono cancellare ogni possibile tempo o voto o sogno di parlamento di parlamento di libertà di stampa di educazione libera è uguale per i ceti popolari sono anti femministi in una maniera ma questo insomma diciamo che è un po' tutto l'Ottocento è inutile inutile illudisi e anche oltre naturalmente e sono di un classismo vergognoso ma vergognoso perché è proprio senza veli è proprio senza veli l'educazione per le masse popolari su cui che so Mazzini la prato e chissà quanti altri eccetera spendono scrivono si spremono si spremono il cervello per loro è semplicemente la lettura del catechismo e non per tutti e non lo stesso catechismo per tutti ma ci sono tre catechismi c'è 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 catechismo in in pillolissime in pillolissime in in poche pagine per i ceti più popolari c'è un catechismo un po' più sviluppato un po' più più articolato per i ceti diciamo medio si è un catechismo è un catechismo per le donne per le donne e per i ceti borghesi basso borghesi anche questo estremamente semplicato questa è l'educazione è l'educazione che hanno in mente questa è l'educazione che hanno in mente sul piano del lavoro poi non se ne parla nemmeno il massimo va bene sono 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 contrarissimi al cosiddetto ascensore sociale con una scusa che è persino ridicola no è inutile che i ceti medio borghesi o piccolo borghesi studiano perché dopo ci saranno troppi avvocati troppi medici troppi troppi tecnici ingegneri eccetera eccetera e rimarranno disoccupati quindi è meglio che non studiano eccetera ecco è una lettura da un certo punto di vista da un certo punto di vista avvilente è umiliante pensare che veramente questi siano stati siano stati siano stati consiglieri e quelli che hanno avuto il potere e mano alle leve dell'educazione per generazioni e per generazioni l'unica l'unica consolazione mia di risorgimentalista risorgimentalista eccetera è che fino in fondo fino al cinquant proprio fino alla vigilia del cinquantanove non hanno ancora capito che cosa stava succedendo davvero fino in fondo erano convintissimi che Napoleone III non sarebbe arrivato in Italia che erano illusioni eccetera eccetera e che questo piano diciamo di unità nazionale sarebbe fallito miseramente non capiscono e questo è molto strano perché appunto dicevo sono gesuiti sono intelligenti sono occolti sanno guardare la realtà però non capiscono assolutamente nulla di come stia 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 per evolvere tutta 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 la cosa l'unica speranza l'ultima speranza che hanno e lo scrivono anche in un editoriale di qualche mese prima è che comunque perderanno la guerra i piemontesi e quindi tutto questo tutto questo tornerà tornerà come prima è stupefacente tutto questo no è umiliante appunto dal punto di vista della storia della storia della chiesa della storia della chiesa eccetera eccetera subito dopo però l'ultimo articolo che scrivono nel 59 alla vigilia insomma del 60 è che loro non depurranno le armi non depurranno le armi e questo purtroppo è una conseguenza ecco questo libro questo libro qui presenta una serie di situazioni e di fatti che si prolungheranno poi per 50 o forse 100 anni ecco quando prima quando prima mi sono segnato parlava avevo giustamente del del piano di 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 Napoleone III della sua idea di cosa doveva sbaglia 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 anche lui perché a un certo punto in questo movimento diciamo risorgimentale che è molto frastagliato confuso anche caotico negli ultimi 4-5 anni prima del 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 59 60 a un certo punto si infila l'intera il terra nel 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 mediterraneo nel nel mediterraneo cambia molte cose cambia molte cose e le cambia e le cambia d'anno le cambia d'anno nei francesi che poi dovranno vedersela come ha detto Roberto come ha detto Roberto proprio 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 con la Germania proprio con la Germania però è interessante vedere sia sul piano culturale sia sul piano delle istituzioni civili sia sul piano militare sia sul piano politico come questi dieci anni come questi dieci anni prolungheranno le loro conseguenze per quasi un secolo ancora no ecco quando Pertici parla della mi ricordo il primo titolo il primo titolo del suo saggio il titolo originale che aveva che aveva pensato la prima crisi la prima crisi religiosa del risorgimento è proprio questa no è questa crisi che è figlia del 49 è figlia del 48 49 ce la portiamo ce la portiamo dietro minimo minimo fino ai patti lateranensi ma io penso anche oltre io penso anche oltre e in un certo senso le conseguenze di quella crisi si sono prolungate forse anche fino ai giorni nostri ho parlato anche troppo e mi fermo grazie molte vedo i coautori che applaudono per questo per questo ennesimo ti siamo applauditi lo sta bene forse no no che non è non è stata solo una una chiosa ma anche un approfondimento all'interno dei contenuti di un di un saggio che mostra veramente come diciamo insieme a questo processo di nazionalizzazione dell'elite si mettono in moto in questo decennio anche dei controprocessi in questo caso di natura reazionaria che non sono da sottovalutare perché quando guardiamo così il passato con una certa distanza abbiamo sempre un po' questo pregiudizio quasi teleologico nel nel credere che le cose sarebbero dovute andare così e invece erano in moto forse anche contrarie non di di secondo ordine e peraltro particolarmente organizzate io lascerei adesso un momento a disposizione del pubblico nel caso in cui volesse intervenire con quesiti o commenti possibilmente attraverso la la chat approfittando della presenza dei tre dei tre autori che che ringrazio veramente per questa per questo sforzo anche di di riuscire a riassumere diciamo in poco più di un'ora eventi diciamo una tale complessità di temi e un volume collettaneo con tutto quello che che comporta chiedo eventualmente anche a a Ingrid di di segnalarmi se qualcuno dei io tra cinque minuti scappo però ve l'ho detto devo mi scuso mi scuso veramente non c'è nessuna perché ad ascoltarvi quello che ho ascoltato prima a te siete bravissimi è veramente un piacere però questo non vorrei che mia moglie finisse in cronocanera faremo il possibile per per evitarlo magari non vedendo diciamo commenti dal pubblico cerco di di chiusare io rimandando anche all'appuntamento successivo ascoltando proprio queste ultime riflessioni di Mario Allegri mi sono tornate alla mente sembra paradossale ma non lo è alcune diciamo una mia decente lettura che riguarda il volume che presentiamo la settimana prossima al cui autore Jacopo Lorenzini il titolo del libro è l'elmo di Scipio storie del risorgimento in uniforme e diciamo l'operazione così editoriale è particolarmente calzante rispetto alle riflessioni che proponeva Allegri poco fa perché questo volume che l'autore presenterà mercoledì prossimo in realtà presenta le biografie di tre personaggi che sono tre militari che però provengono da questi ambienti regionali molto diversi fra loro uno è Enrico Cosens che diciamo è un ufficiale borbonico con un'esperienza da Garibaldino tra l'altro e che a un certo punto in questo processo di nazionalizzazione dell'elite che è molto radicato diventa il primo capo di stato maggiore dell'esercito italiano potentissimo tra l'altro il secondo è Salvatore Pianella anche lui nato cresciuto in un ambiente meridionale borbonico ultimo ministro della guerra di quello che fu diciamo il regno borbonico e che dopo viene cooptato nell'elite militare dell'Italia Unita si può dire quasi senza colpo colpoferire come se queste diciamo affinità di natura istituzionale che legavano questi militari al proprio stato di appartenenza in realtà vengono sciolte poi in questo processo di nazionalizzazione più più complesso e il terzo elemento che mi rimanda proprio all'ultima riflessione di Allegra è il terzo del protagonista di questo di questa storia biografica che è Cesare Magnani Ricotti che naturalmente ha una vita una biografia diversa proviene dall'ambito novarese quindi diciamo sembra pienamente integrato così in questo mondo piemontese che poco per volta ammanta anche con le sue strutture istituzionali del resto d'Italia in realtà viene da una famiglia che non proviene dall'elite militari ma è un po' un esempio di come una famiglia borghese riesca a superare questi pregiudizi della cività cattolica e a crescere dal punto di vista diciamo professionale e ad entrare all'interno di un'elite che è l'elite poi liberale e Cesare Magnani Ricotti che fa il ministro della guerra poi se non ricordo male tre volte è una di quelle figure politiche che poi incide sulla storia d'Italia fino a quasi all'inizio del Novecento fino alla fine dell'Ottocento quasi per dire che tutti i movimenti che incubano in questo decennio preunitario in realtà hanno dei fili rossi di lungo periodo che riguardano la storia della Chiesa ma in questo caso anche la storia militare e apprezzo maggiormente ancora l'intuizione di Fabrizio Rasera che ha proposto la presentazione di questo volume i cui temi si intrecciano bene con quello che sentiremo mercoledì prossimo io non vedo altre reazioni dalla parte mia non ho commenti ulteriori se non una nota di ringraziamento a voi per la disponibilità e così anche la competenza a cui siete riusciti a presentare il tutto e diciamo approfitto di questa chiusura per un saluto ai nostri spettatori e ancora un grazie cordiale a tutti voi